buongiorno a tutti quanti prima di sera viene a piovere come dice il cielo è arrivata l'area fredda gelida c'erano 21 gradi 21 gradi alle 9.25 giovedì 27 agosto 2021 figa da ieri che si moriva di caldo si sudava di caldo a oggi che si congira di freddo si congira una cosa impressionante il meteo non dà pioggia ma per me viene a piovere prima di sera una bella scaricata la tira giù poi magari sbaglio però per me non sbaglio come dice il cielo non sbaglio se andiamo a vedere chi ha ragione io ho le previsioni